Ci sono persone che spendono 10-20 mila euro al giorno quando sono in vacanza, ma a questi turisti non bastano. Cascine, masserie, prati e scogliere vogliono hotel extra lusso, porti per il loro yacht e tanto divertimento. In pratica il turismo pugliese e salentino in particolare è roba per poveri. Le dichiarazioni di Flavio Briatore, che non ha certo bisogno di presentazioni, lasciano sconcertati. Rincara la dose l'ex manager della Formula 1. I turisti disposti a spendere vogliono hotel extra lusso, porti per gli yacht che se ne devono fare del mare e delle masserie. Occasione per offendere la Puglia e i migliaia di turisti che scelgono la Puglia è stato l'incontro prospettivi a mezzogiorno, ma lo è soprattutto il fatto che Briatore aprirà la prossima estate a nord di Taranto il Twinga, un locale di lusso con stabilimento baleare, discoteca e ristorante. Dopo Monaco e Monte Carlo, insomma Briatore vuole portare in Puglia la sua idea di turismo extra lusso, che in realtà già nei suoi intenti stride con la bellezza naturale, sana e pulita proprio della Puglia, che il 99% dei turisti in realtà cerca. Lo dicono le indagini di mercato, i dati di Puglia Promozione, che continuano a sottolineare come il trend del turismo sia nazionale che internazionale in Puglia sia in crescita. Non autorizzeremo la costruzione di altre strutture sul mare. Anche la sala si scalda e qualcuno dichiara non è questo il turismo che vogliamo. Al Salento non servono i resort come quelli che hai costruito in Kenya, ma viene subito zittito dai numerosi imprenditori presenti, a cui invece il modello e soprattutto i soldi di Briatore piacciono molto. Il modello proposto da Briatore al Salento offre nuovi motivi per essere rispedito al mittente, perché esclude il 99% delle persone e questo è culturalmente inaccettabile per chi non pensi che solo il possessore di Iota abbiano diritto alla vacanza e il consigliere regionale pugliese del PD Sergio Brasi a rispondere. Ma per Briatore il brand di lusso e il divertimento sfarenato rappresentano la ricetta perché il Salento e la Puglia attirino un turismo d'elite, quelli per intenderci dei 10.000 euro al giorno, che farsene delle seppur meravigliose masserie storiche del paesaggio mozzafiato, dei trulli che troneggiano vezzosi nella loro semplicità, dello splendore pulito del mare, dell'enogastronomia riconosciuta in tutto il mondo. Costano poco, quindi non valgono niente per Briatore. Alberghetti rifilisce le nostre strutture turistiche che in realtà sono davvero curate nei dettagli e accoglienti come solo i pugliesi sanno fare. Ma se questa è povertà per lei, signor Briatore, ben venga. Meglio, molto meglio essere poveri e belli, ospitali e accoglienti che ricchi, se questo significa offendere i pugliesi, i sacrifici di tante persone e i tanti turisti che invece scelgono proprio la Puglia. Anzi, la invitiamo a trascorrere una notte in aperta campagna, nei prati di una masseria di Puglia, dove potrà godersi il cielo stellato e pulito e la pace del silenzio che le sussurra all'orecchio cose dolci. Molto meglio delle notti brave e folli da 10.000 euro.